Per tutto il mese di giugno ingresso gratuito per cittadini, fedeli e turisti ai principali monumenti e musei di Padova, da Palazzo della Ragione al Museo Remitani a Palazzo Zuckerman. La storia di Sant'Antonio infatti si è sempre intrecciata fin dal 1231, anno della sua morte, con quella della città di Padova contribuendo alla formazione dell'identità cittadina. Una bellezza, quella del patrimonio artistico di Padova, che può essere riscoperta grazie a questa iniziativa. Sono escluse però dall'ingresso gratuito la cappella degli scrovegni e le mostre che prevedono il pagamento di un biglietto d'ingresso. Il sistema museale di Padova ha riaperto il 18 maggio in sicurezza. Gli spazi e i percorsi sono stati rivisti in modo da evitare incroci tra i flussi di visitatori, assembramenti e contatti non desiderati. Sono assicurate la sanificazione delle sedi e la sicurezza del pubblico tramite idonei dispositivi e disposizioni per l'accesso che avviene con il controllo e il supporto di personale di sorveglianza opportunamente formato. Le sedi sono aperte dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 ad eccezione di Palazzo Zuckerman aperto dalle 10 alle 19. Il lunedì invece giorno di chiusura.